Oggi, 12 marzo, è andata in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici, prima del serale. Questa puntata è particolarmente significativa per un motivo importante. Si tratta infatti della prima puntata in cui Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il programma è stato registrato il 3 marzo, meno di una settimana dopo la scomparsa del noto giornalista e conduttore. Maria è stata accolta dalle urla e dagli applausi del pubblico e degli allievi. Tutti in piedi per lei. Una volta entrata in studio, la conduttrice ha salutato tutti i professori e ha pronunciato una frase che era già stata anticipata nei giorni precedenti. «Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato». I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in particolare. Ovvero la voce rotta dall'emozione della presentatrice. Nonostante ciò, Maria ha cercato subito di riprendersi per continuare con la puntata e l'assegnazione delle maglie. La conduttrice è stata sommersa di messaggi di elogio e affetto sui social. Con molti che hanno espresso la loro ammirazione per la sua grande professionalità e forza. Nonostante l'evidente emozione tradita dalla voce rotta e gli occhi lucidi, Maria ha continuato a svolgere il suo lavoro con la stessa determinazione e serietà che la caratterizzano. «Tanta stima per la forza e la professionalità di Maria», ha scritto un utente su Twitter. «E ancora. Vi prego fatemi abbracciare Maria. Io non posso vederla così». Inoltre, i più curiosi sul web hanno notato che il pubblico presente in studio ha potuto applaudire e fare cori per Maria. A differenza di quanto riportato dalle anticipazioni. Infatti, era circolata una voce secondo cui la conduttrice avesse richiesto di ricevere solo un sobrio applauso al momento del suo ingresso. Poiché il pubblico del talent show è noto per il suo tifo da stadio sempre presente durante le puntate. Tuttavia, sembra che questa notizia non fosse completamente veritiera. Poiché gli applausi sono stati accompagnati dalle persone che urlavano il nome di Maria per dimostrarle il loro affetto. Grazie per la visione!